Buon pomeriggio a tutti e visto che non abbiamo potuto a causa il coronavirus completare le conferenze, almeno in questo periodo le conferenze fatte che facevamo all'Università Popolare, per restare vicino a tutti i nostri appassionati amanti del Giappone volevamo presentarvi quindi delle, vorrei chiamarle pillole di Giappone e lo facciamo attraverso la presentazione di un famoso incisore, pittore, poeta e calligrafo giapponese e sto parlando di Tsukiyoka Yoshitoshi il suo vero nome è Owaria Yonejiro, anche se come è usanza nel mondo giapponese nel momento in cui lui andò e divenne allievo del maestro Kuniyoshi prese una parte del suo nome e divenne pertanto famoso ed è famoso tuttora con il nome di Yoshitoshi ho scelto questo artista perché ha vissuto in un'epoca di grandi cambiamenti e di grandi transizioni e precisamente all'inizio del periodo Meiji, della restaurazione imperiale quindi Yoshitoshi nasce a Edo il 30 aprile 1839 e muore a Tokyo il 9 giugno 1892 già vedendo questo si vede quanto già nel cambiamento nel nome della capitale c'è tutta la storia di questo periodo il periodo Meiji andrebbe studiato in modo molto approfondito perché anche se si ha l'impressione che sia stata una restaurazione quasi indolore in realtà fu molto molto turbolenta a momenti anche molto sanguinosa e di questo Yoshitoshi ne fu un diretto interprete ho scelto questo artista anche perché è stato l'ultimo grande autore di Ukiyo-e le stampe e le silografie policrome ed è stato quello che in un'epoca di grandi transizioni e di grande successiva apertura verso l'occidente quasi a voler buttare via la tradizione fu uno che la recuperò la recuperò ma sentendo l'influenza di tutto quello che poteva arrivare di occidentale per esempio uno degli esempi più classici è la prospettiva quindi sicuramente allo stesso tempo un innovatore e un conservatore della tradizione la vita di Yoshitoshi fu molto tormentata morì in età abbastanza giovane morì a 59 anni passò dai momenti di estrema miseria a momenti di grande benessere alcune sue stampe dei periodi peggiori infatti sono chiamate le stampe insanguinate quelle che invece voglio presentarvi e che vi verranno presentate in vari appuntamenti con una descrizione anche di quella che la cultura, la vita, la storia giapponese che lui appunto andava a rappresentare e la serie sua più famosa è la raccolta delle cento lune la luna come si sa è sempre stata un elemento estremamente importante nella cultura giapponese dalla poesia alla pittura in quanto ha in sé un elemento di magia, di attesa e di qualche sicuramente anche un'espressione, un sentimento di malinconia che sono molto cari al mondo giapponese vorrei lasciarvi quindi alla descrizione di questi primi capitoli con quella che fu la poesia di Komiato che i giapponesi soprattutto nella tradizione usavano scrivere prima di morire e le parole di Yoshitoshi furono appunto trattenendo la notte con il suo splendore crescente la luna d'estate grazie luna del monte Inaba il disegno trae spunto dal periodo di guerra civile che precedette l'unificazione del Giappone nel 1564 il capo militare Oda Nobunaga nato nel 1534 e morto nel 1582 stava assediando il castello del clan Saito posto sul monte Inaba vicino a Gifu nel Giappone centrale l'impeto della sua campagna militare era stato frenato dalla difesa della fortezza nemica che pareva inespugnabile il giovane braccio destro di Nobunaga Toyotomi Hideyoshi venne a sapere di un sentiero incustodito che conduceva al castello e decise di compiere un assalto temerario dopo avere reclutato nell'impresa i sei uomini migliori si legarono il cibo attorno alla vita e delle zucche a fiasco per l'acqua sulle spalle e stabilirono che non appena fossero penetrati nella fortezza avrebbero issato le zucche in cima alle mura fissandole a delle canne di bambù quello sarebbe stato il segnale di attacco per le truppe Hideyoshi e i suoi uomini si misero in cammino il tardo pomeriggio del tredicesimo giorno dell'ottavo mese prossimo quindi al plenilunio la marcia di avvicinamento lunga e difficoltosa terminava su uno sperone roccioso a picco lo scalarono alla luce di una luna così chiara che si poteva facilmente distinguere ogni foglia di bambù tutto andò secondo i piani e il castello venne conquistato la storia delle zucche di Hideyoshi era quanto famosa e Yoshitoshi l'aveva già illustrata in un trittico del 1877 il castello di Gifu sul monte Inaba dominava la provincia di Mino costruito dal capo saito Dosan solo pochi anni prima dell'assalto di Hideyoshi fu teatro di combattimenti aspri e passò di mano in mano negli ultimi decenni del XVI secolo alla fine venne distrutto dopo un lungo assedio nel 1600 e mai ricostruito nessun feudatario risiede a Gifu nel periodo Edo periodo che va dal 1600 al 1868 le Jokamachi, città-castello svolsero un ruolo importante, ancorché breve nella storia militare giapponese di importanza strategica durante le guerre di unificazione di metà 500 decaddero durante il lungo periodo di pace imposto dallo shounato Tokugawa una luna enorme domina il disegno sorprendente per il pubblico di Yoshitoshi la sua luce illumina da dietro gli steli di erba Susuki associando due dei motivi decorativi preferiti dall'artista la posizione bassa della luna nella composizione sottolinea l'importanza del momento in cui il soldato probabilmente Hideyoshi stesso raggiunge la sommità dello sperone roccioso porta a tracolla la zucca a fiasco e la lunga katana quest'ultima si estende dalla luna al cartiglio del titolo mettendo in relazione queste due zone dai colori chiari e dando un senso unitario alla composizione mentre il castello di Gifu subiva assalte e conquiste ripetute le fornaci nella campagna circostante continuavano a produrre le famose ceramiche Oribe e Shino caratterizzate da forme insolite e smalto irregolare che oggi appaiono così moderne ed ora l'illustrazione di un fatto di cronaca questo è il titolo Luna di neve pura sul fiume Asano Chicako, la figlia amorosa Yoshitoshi si ispira a una storia realmente accaduta pochi anni prima Chicako era la figlia di Zenia Gohei 1798-1855 un costruttore navale e imprenditore del nord del Giappone durante una carestia Gohei mise le sue numerose navi al servizio del trasporto del riso nelle zone più disagiate diventando una sorta di eroe e arricchendosi nel contempo in seguito propose di prosciugare un lago e convertirlo alla coltivazione del riso e per sostenere il progetto si fece prestare molto denaro ma i pescatori locali si opposero violentamente all'impresa il denaro finì e Zenia fu gettato in prigione Chicako allora pregò per il rilascio di suo padre e per dimostrare la sua sincerità si tolse la vita in una notte di neve gettandosi nel fiume Asano il suo sacrificio fu inutile Zenia morì in prigione e suo figlio venne decapitato il disegno è uno dei migliori della serie la composizione serrata gravita attorno a una luna smisurata le linee orizzontali delle nuvole azzurre e grigie attirano lo sguardo verso la luna e conferiscono un senso di lontananza gli indumenti colorati di Chicako riempiono la parte superiore della stampa dandole consistenza mentre la parte inferiore è vuota eccetto che per l'acqua che sta per inghiottire la giovane i vestiti della giovane turbinano dietro di lei due garzette si involano e sembra quasi di sentire il battito delle ali che rompe il silenzio il loro movimento accentua l'immobilità del paesaggio ghiacciato e sottolinea la solitudine della ragazza degli uccelli in volo si ritrovano in diverse illustrazioni di Yoshitoshi che trattano il tema della morte la composizione è quasi identica a un'illustrazione per un libro realizzata da Hokusai nel 1807 che forse l'artista ebbe modo di vedere e che raffigura Hatsuhana mentre si toglie la vita gettandosi nel lago Housawa i colori accesi del kimono di Chicako contrastano con la fredda immobilità invernale che avvolge l'immagine un lato della cintura presenta una decorazione floreale realizzata con la tintura a nodi l'altro è ornato da un motivo a crisantemi e foglie di paulonia lo stesso che si ritrova su quella di una prostituta evidentemente Yoshitoshi deve essersi ricordato di un hobby che aveva ammirato la raffigurazione delle garzette in volo è più naturalistica rispetto a quelle nella serie di Hokusai e Hiroshige attivo una cinquantina di anni dopo Hokusai e Hiroshige Yoshitoshi probabilmente vide delle immagini fotografiche che potrebbe aver usato come modello per le sue illustrazioni passiamo quindi ad una storia tratta dalle leggende più antiche del Giappone e precisamente a una storia sul monaco Benkei che è stato anche molto rappresentato nelle opere di Noh e del Kabuki questo è il titolo Luna sul mare nella baia di Daimotsu Benkei il grande Fiero Benkei uno degli eroi più amati del Giappone è in piedi a prua della sua barca e placa una tempesta suscitata dai fantasmi dei suoi nemici si tratta di una scena tratta da una leggenda che è stata trasposta dapprima in un'opera teatrale Noh e quindi in un Kabuki dal titolo Funa Benkei Benkei nella barca Musashibo Benkei era il più noto seguace di Minamoto no Yoshitsune l'eroe esemplare delle guerre Genji Heike del XII secolo Genji è il nome cinese del clan Minamoto Heike del clan Taira nel 1185 dopo decenni di rivalità le forze dei Minamoto guidate da Yoshitsune annientarono i Taira nella battaglia navale di Dan-no-Ura a largo del Giappone occidentale sconfitti definitivamente i nemici il fratello maggiore di Yoshitsune Ioritomo prese il controllo del paese ma essendo geloso e temendo Yoshitsune si rivoltò verso di lui costringendola a fuggire dalla capitale Kyoto Yoshitsune e i suoi seguaci si imbarcarono dirigendosi verso ovest non appena furono in mare aperto con rapidità innaturale si alzò una tempesta violenta nel mughiare del vento gli uomini sulla barca potevano sentire le voci dei Taira che avevano fatto morire in mare invocare vendetta una moltitudine di guerrieri morti apparve sopra il mare lo spirito di Tomomori il capo Taira avanzò su Yoshitsune roteando le norme alabarda nelle nuove forme di 36 fantasmi Yoshitoshi raffigura Tomomori che incede sopra le onde scena cruciale nella rappresentazione ino e Kabuki Benkei che una volta era stato monaco affrontò i fantasmi rosario in mano recitò preghiere e formule magiche i fantasmi scomparvero le onde si placarono e i fuggitivi continuarono la navigazione storicamente in realtà la tempesta uccise molti uomini di Yoshitsune e distrusse ogni idea di resistenza armata a Yoritomo Benkei aveva sempre avuto una personalità forte e franca da ragazzo noto con il nome di Giovane Demonio studiò e si fece espellere da un certo numero di templi alla fine si rase il capo e si unì agli Yamabushi i guerrieri di montagna una setta di monaci guerrieri che spesso erano poco più che banditi uno di loro emblemi era il piccolo cappello nero che Benkei indossa in questo disegno in seguito incontrò Yoshitsune che allora aveva 17 anni sopra un ponte a Kyoto e tentò di sottrargli la spada Yoshitsune ebbe la meglio e Benkei divenne il suo seguace più fedele generalmente è descritto come un uomo grande e corpulento e questa figurina contrapposta alle onde è molto inusuale Kuniyoshi e Hokusai illustrarono questa storia più volte entrambi raffigurarono i fantasmi Taira come ombre nere minacciose nel caso di Yoshitoshi si riescono persino a distinguere numerose figure nelle nuvole simili alle macchie di Rorschach la posizione dei cartigli alla base del disegno sottolinea il rapido movimento verticale dell'onda in direzione della luna nelle prime impressioni del disegno il muro nero di acqua che si protende verso la barca è stato spruzzato con polvere di mica che lo rende luccicante quando si cambia inclinazione alla stampa con questa ultima lettura termina l'appuntamento di oggi il prossimo appuntamento con altri quadri altre descrizioni sarà la metteremo online venerdì 10 aprile volevo inoltre ricordare che le letture che avete sentito sono tratte dal libro Yoshitoshi 100 Aspect of the Moon scritto da John Stevenson grazie grazie a tutti Grazie a tutti